Una tonnellata di rifiuti raccolti in mare, il bilancio dell'operazione denominata Fishing for Litter a Fiumicino. Ieri c'è stata la presentazione dei primi dati relativi al progetto sperimentale della raccolta che viene effettuata direttamente dai pescatori durante le loro normali attività lavorative. All'evento erano presenti Massimiliano Valeriani, assessore della Regione Lazio, Antonio Protopapa, direttore ricerca e sviluppo di Corepla, Marco Lupo, direttore generale di Arpalazio, il sindaco di Fiumicino e Stelino Montino, Francesco Di Maio, presidente autorità di sistema portuale, Vincenzo Leone, comandante direzione marittima del Lazio, Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Roberto Arciprete, cooperativa pescatori AGC Agrital. Liberare le nostre coste, il nostro mare dall'inquinamento di plastica è diventato un obiettivo sentito da tutti i cittadini. Bisogna passare dalle parole ai fatti. Quando siamo partiti, quasi un anno fa, era ambizioso immaginare un pomeriggio come quello di oggi. Oggi non abbiamo annunciato un progetto, ma abbiamo annunciato i primi risultati. Uno scarrabile posizionato dal Corepla, il Consorzio Nazionale per il Recupero di Plastica, e qui a Fiumicino è stato, dopo quattro settimane, riempito da una tonnellata di rifiuto da plastica, raccolto dai pescatori in mare. Soprattutto all'inverno arriva di tutto. Quando il Tevere è alto, le golene naturalmente si riempiono d'acqua e portano giù tutto quello che incontra nei 400 chilometri di corso, se ci mettiamo anche la niene, qui arriva veramente tonnellate di rifiuti. In particolare è plastica, non solo plastica, ma plastica la fa alla grande. E poi ce la ritroviamo o in fondo al mare, oppure su questi nostri 24 chilometri di costa. Ma per noi è una cosa importantissima pulire il mare, perché è bene comune di tutti e poi è un apporto in più pulire il mare, perché il mare è la nostra ricchezza, è il nostro guadagno. Le discariche che stanno sott'acqua o stanno sul terreno vanno ripulite. In questo caso stiamo ripulendo una discarica che sta sui fondali del mare, dovunque purtroppo, fatta per il 90% di plastiche. La prima tonnellata di rifiuti raccolta in sole quattro settimane dalle reti dei pescatori, a una distanza compresa tra i 3 e i 14 miglia dalla costa e dai 16 ai 100 metri di fondale, è sostanzialmente composta da tubi di gomma, film di plastica, reti da pesca e da cantiere, bottiglie in plastica, stracci e corde di canapa, poi anche però acciaio, materiale organico, tetrapack e alluminio.